Questa sera ci troviamo nello spazio Lunardelli Venezia per presentarvi la collezione di Gianluca Regazzo. Quello che vedete stasera è una presentazione dei miei capi opere, una collaborazione tenuta con Lunardelli Venezia, la Casa Ospitale e la Fornazza Orsoni. È un racconto dove cerco di valorizzare i segreti di Venezia, quelle realtà di profonda verità, di profonda realtà storica nel mio perato. Grazie a tutti.